bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare mi piace di toni f con sfere basta ma anche ready dell'slf squad io partirei proprio da quest'ultima più che altro perché mancano ancora cinque minuti all'una mentre questa canzone è già uscita a mezzanotte grazie al cielo anzi rapper italiani prendete esempio non avevo mai portato la scena napoletana prima su questo canale non avevo mai avuto modo di parlarne ma già comincio col dire che mi fanno impazzire chi più chi meno mi viene subito in mente un lavoro come awards uscito lo scorso anno nel 2020 che lo reputo uno degli album più belli di quell'anno di mvkila e young snap che all'interno di questo gruppo è quello che preferisco sarà sicuramente unpopular però è un mostro a produrre o comunque un discreto producer e poi anche come rapper si è comessa a dire assolutamente la sua ed è il rapper appunto per cui sono più in hype un sound molto americano adattato alla lingua napoletana e quindi a mio avviso portano comunque qualcosa di fresco qualcosa di innovativo sono molto in high per questa canzone che annuncia il mixtape proprio dell'slf come collettivo insieme due che ho già citato ci sono vale lambo le blade quelli che erano o comunque sono tuttora hanno ogni idea le scimmie ma anche jolly harry il fit esterno a tutti gli effetti quindi una bella poste track napoletana al completo perché tolti loro poi chi altro è rimasto lì sicuramente qualcuno c'è però secondo me loro sono almeno tra i più interessanti direi ascoltiamocela paro g8 ok 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 va bene molto molto carina possiamo definirla sin da subito un bel banger perché il beat è totalmente hard loro fanno quattro strofe belle incazzate come intro di un mixtape o comunque di un album me la vedo molto molto bene secondo me tutti hanno fatto il loro nel senso non c'è stato uno che proprio lo hai ascoltato e hai detto cazzo hai clissato tutti tutti hanno fatto belle strofe sì chiaramente l'attacco di gioiaire fa paura ma così come un po tutti i suoi attacchi mv kill è quello che fa anche la prima strofa è molto tecnico molto bravo molto flow e quando si tratta di rappare ci va come un treno young snap sempre quello che dà un attimo quel tocco di sound poi ha ripreso l'attacco di squad se non sbaglio molto carina questa citazione tra l'altro lui proprio in squad se come fa il devasto e se devo paragonare questa canzone a squad anche perché sono gli unici due singoli targati slf che sono usciti fino adesso almeno su spotify vi dico quella mi sembrava molto molto più potente questa chiaramente pure è una canzone carina come dicevo prima me la vedo bene come intro di un album e sono curioso a questo punto di ascoltare tutto il resto poi continuando a parlare un po dei rapper sono rimasti vale lambo e lele blade ho preferito lele al lambo però anche loro come ho detto prima hanno fatto assolutamente la loro parte assolutamente la loro strofa e quindi la canzone nel complesso devo dire che alla fine è una hit l'unica cosa che mi dispiace è che questi ragazzi potranno spaccare quanto vogliono però saranno sempre un po limitati dal proprio dialetto e questa è una cosa che onestamente mi dà un po al cazzo perché non vedo come qualcuno ignori o comunque proprio scarti a prescindere una roba solo perché magari non riesce a comprendere del tutto chiaramente ognuno nel rap cerca quello che vuole sentire se vuole sentire un bel testo e vuole comprendere la canzone ok però secondo me ecco non bisogna per forza capire ogni singola cazzo di parola poi questo è solo il mio parere fatta questa piccola parentesi io mi sposterei un po più sul mainstream e andrei a parlare un po di questa nuova collaborazione di toni f e spero e basta che dopo praticamente cinque anni perché dopo cavallini sì forse c'è qualche strofa qua e lì aspettate ora vado a fare una ricerca prima di dire cazzate perfetto non dicevo nessuna stronzata l'ultima collaborazione tra sfera e la dark risale praticamente a tda fiori del male quindi parliamo sempre del 2016 sono passati cinque anni hanno litigato non hanno litigato si sono create una serie di teorie ma in realtà non è successo niente semplicemente hanno preso percorsi un po diversi nonostante facciano la stessa roba e hanno collaborato con gente diversa detto questo sono tornati insieme me lo aspettavo sì quello che non mi aspettavo è l'annuncio di questo pezzo mi piace perché da mesi ormai gira su telegram il remix o comunque un piccolo snippet del remix di escort lover la canzone di untouchable album di toni f uscito proprio quest'anno e quindi pensavo che questa canzone che stavano per annunciare quando ho visto già i primi post questa settimana fosse proprio questo remix invece un singolo inedito mi piace canzone che stavo notando adesso è stata subito aggiunta all'album proprio ad untouchable così come anche il remix di colpevole con gioiaire quindi due singoli che subito vanno a pompare un po le vendite in generale le statistiche di questo album che comunque devo dire che è andato molto bene tra l'altro anche balaclava con capo plaza che ho reattato è stata aggiunta quindi magari non lo so se sta creando una deluxe traccia dopo traccia o uscirà poi un'altra parte però ok dopo cinque anni live non può essere alto non ve lo nascondo ma visto il titolo visto un po come l'hanno presentato mi da tanto di hit commerciale o comunque mainstream detto questo non facciamoci ingannare dall'apparenza e ascoltiamola Dio santo madre di dio sempre lo stesso flow ma ogni strofa di sfera e basta fateci caso è sempre la stessa c'è allora ragazzi no vi spiego questo piccolo problema prima di parlare della canzone questo cazzo di gatto va con gli occhi dritti in quel cazzo di led che sta laggiù non so se lo vedete quella luce blu il led abbastanza forte questo c'è diventerà ciecato così non lo so c'è all'occhio umano basta vederlo da lontano e già ti acciechi c'è un gatto che ci va a due centimetri vabbè tralasciando questo piccolo problema sono molto allucinato nel senso che cazzo è che cazzo è allora di certo dopo cinque anni visto i percorsi come si sono evoluti non mi aspettavo una trappata non mi aspettavo di certo caballini parte 2 mi aspettavo qualcosa di mainstream speravo in qualcosa quanto meno fatto bene scusatemi ma questa che cazzo è c'è nel senso sembra un pezzo con influenze anni 2000 mo ti devo ammazzare porco due Cristo santo lì no dicevo sembra una canzone con influenze 2000 o comunque con un timbro un po' old però buh c'è sembra vi dico la verità le prime impressioni che mi ha dato è F venuta male nel senso che F appunto anche lei ha quello stampo un po' vecchio stile un po' anni 2000 Miami che cazzo vi devo dire questa stessa cosa ma sinceramente boh per quanto mi riguarda non ti entra in testa meno male ha un sound che poi non so quanto possa piacere al pubblico proprio mainstream e le strofe poi sono sempre la solita roba toni con il solito flow e spera con le solite quattro cazzate che dice ormai ad ogni strofa dal 2018-19 in poi tu tu che te l'ascolterai lasciami un commento qua sotto sul perché questa canzone ti è piaciuto sul perché secondo te merita anche un secondo ascolto boh quindi sinceramente da questo secondo singolo sono rimasto totalmente spiazzato non mi è piaciuta e boh non mi ha dato un po' di nulla il primo sicuramente mi è piaciuto molto di più e quindi chiedo a voi quale delle due canzoni vi è piaciuta di più e perché conoscevate già SLF che è il vostro member preferito vi aspettavate un pochino di più dal ritorno di Tony Sfera dopo 5 anni di niente lasciatemi un commento qui sotto nel caso in cui il video vi fosse piaciuto vi invito sin da subito a lasciare un mi piace e se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale se lo siete già invece attivate la campanellina così non vi perdete ogni reaction ogni qualcosa ogni qualsiasi cosa che carico non perdo neanche l'occasione per invitarvi a passare in descrizione dove trovate innanzitutto i miei social e se vi interessa il canale è importante seguirmi perché lì annuncio tutti i video parlo di musica insomma se volete fare due risate passate lì in descrizione le mie playlist se volete ascoltare qualcosa di nuovo c'ho rap americano rap italiano emergenti americani più un'altra miriade di playlist sempre se non è un termine che ho appena inventato e per ultimo ma non di importanza il gruppo telegram una piccola community siamo 400 persone e parliamo di musica anche lì annuncio i video quindi mi raccomando vi aspetto in tanti condividete questo video con quanta più gente volete potete noi ci vediamo ad un prossimo slè ciao